E' partito il secondo mandato di Gianni Morandi a Gravellona Toce, il sindaco giurato nel corso del primo consiglio comunale al quale non hanno preso parte i leghisti Antonio Labriola e Mario Geraci. Dopo le polemiche degli scorsi giorni, quindi l'assenza soprattutto di Geraci fra i banchi della minoranza si è fatta sentire. Presente invece Paolo Nocilla, che è stato nominato capogruppo di Centrodestra Unito. Nocilla è stato affiancato perciò dalla sola Paola Battaglia, animi sicuramente più sereni in maggioranza. È stato scelto capogruppo di Insieme per Gravellona, il giovane Mattia Nobili. Morandi ha deciso di confermare la giunta uscente. I nostri nuovi consiglieri sono quasi tutti giovani, quindi dovranno maturare un po' d'esperienza nei primi anni del mandato, ha spiegato Morandi, proprio per questo ho chiesto un ulteriore sforzo ai miei precedenti compagni di giunta. Anna Di Titta è vice sindaco con una delega alle politiche sociali, ai servizi demografici, ai rapporti con enti ed associazioni alla polizia locale commercio e alla protezione civile. Paolo Ciana invece si occupa di bilancio, programmazione economica e finanziaria e finanze tributi. Istruzione, politiche giovanili, turismo e sport sono le deleghe di Cristina Franchi, mentre cultura, viabilità, ambiente, personale e partecipazione quelle di Roberto Birocco. Parlando delle linee programmatiche, il primo cittadino annunciato. Andremo avanti sulla via percorsa nei precedenti cinque anni. Primo obiettivo completare il primo lotto del palazzetto dello sport e ragionare con la regione per una gestione corretta della struttura. Poi lavoreremo per la riqualificazione di Villa Albertini, monitoreremo costantemente possibili bandi pubblici, imposteremo anche il discorso per una nuova palestra delle elementari. Faremo un'opposizione corretta e costruttiva, annunciato Nocilla che con battaglia si è astenuto sul programma di Morandi. Dovremo coinvolgere i 2.258 cittadini che non si sono recati alle urne.